Conostati e accogliati, confermiamoci brevemente su queste due interrogativi. La prima domanda, come viene il Signore? Tante volte abbiamo sentito dire che il Signore è presente nel nostro cammino, che ci accompagna e ci parla, ma forse distratti come siamo da tante cose, questa verità rimane per noi solo teorica, quindi sappiamo che il Signore viene, ma non la viviamo, no? Oppure immaginiamo che il Signore venga in modo trattante, magari attraverso qualche segno proprio di oggi. E cosa facevano ai giorni di Noè? C'è come i giorni di Noè, no? Semplicemente le cose non...